Provano due squadre in salute, Battipaglia deve continuare la propria stiscia positiva, Sassari per tenere nella scia dei play-off, speriamo sia una bella partita sotto tutti i poti di vista. E ci siamo dimenticati di annunciare la numero 24, Joens, attacca proprio la numero 14 di Sassari, la Cacmarcesa, il tiro è sbagliato, la palla nelle mani di Seca che serve, Domegerra, gran palla di Domegerra! E' messo in condizione Tatiana di fare il suo gioco preferito, arrivare in velocità verso il canestro, questo è fondamentale per noi. C'è il fallo di Sierra Johnson che permetterà alla numero 1 Rasa di andare in lunetta per questi due, ti deliberi la situazione falli di Battipaglia, è il primo però, anzi non è di Johnson ma è di Ferrari, Ferrari è un altro di quelli giocatici che quest'anno ha avuto tanti problemi con i falli, soprattutto nel primo tempo. Sì, vabbè, dovuto ai falli perché comunque Battipaglia è una squadra che deve difendere forte, quindi si deve lottare su ogni pallone, però abbiamo un rossa. Cacmarcesa, il pallone finisce dalle mani prima di Ferrari, Seca nuovamente Ferrari, si mette a aspettare il blocco di Johnson, cercata e trovata, Ferrari è chiestuta, la numero 5 Dome, la 55 Domegerra che serve, Johnson che sbaglia da sotto. Agnesca recupera il pallone, attacca e realizza i suoi primi due punti, Sassari avanti di 2, 4 Sassari, 2 Battipaglia, Seca attacca, arriva fino in fondo, non c'è fallo di Johansson. Sassari spinge proprio la 24, la palla in avanti, arriva fino in fondo, trova l'appoggio di Johnson, 6-2, massimo vantaggio Sassari. Sassari si è schierato con un quintetto abbastanza alto, quindi abbiamo anche un po' di difficoltà nel difendere, ci sono molti mismatch difensivi, quindi dobbiamo lavorare tantissimo in anticipo su questa difesa. Johnson di forza, lotta con Johans e realizza il meno 2 Battipaglia, 7-39 da giocare, 6-4 Sassari, attacca la compagine di coach restivo, esce Razza, riceve, aspetta l'uscita a riccio di Carangelo, che tira e realizza grande mano di Carangelo, 8-4 per Sassari, Domegger, attacca, si ferma, torna indietro, aspetta l'arrivo di Jurkevicius, Seca si cerca, attacca, Seca la palla fuori per Domegger, che sta preso per Ferrari, che la fa la finta, al resto, tiro sbagliato, è la stessa Ferrari che sporca la palla e permette agli Jurkevicius di segnare il suo quarto punto. Dobbiamo far girare la palla in attacco e cercare di trovare profondità tantissimo, dare la palla sotto e cercare di giocare dentro fuori con tutte quante. Rada sbaglia da sotto, non sfruttando il mismatch, la palla finisce prima nelle mani di Johnson, poi di Domegger, attacca, ancora la palla arriva a Jurkevicius, troppo alto il pallone per Paola Ferrari, si cercava la palla nel lato debole, troppo alta per Ferrari, Sassari guadagna nuovamente la palla, servendo Carangelo, attacca la numero 5 di Sassari, esce, Kaczmarczyk, ancora per la 21 Agnieszka, il tiro è sbagliato, il rimbalzo di Johnson, che serve Domegger, fa correre gli Jurkevicius, che giustamente si ferma la palla ancora a Ferrari, fa una pinta, attacca con Johnson, la gran giocata tra le due, quattro punti di Johnson, e qui Ferrari realizza un grande asetta. Paola Ferrari ha delle letture di gioco a 360 gradi, quindi mette in condizione di giocare tutte in modo molto semplice, il battimento deve difendere, stiamo difendendo poco, Sassari è una squadra buona e ben organizzata, disse anche la situazione di Kaczmarczyk al stesso posto, quindi non è una squadra che non gioca bene in attacca e in difesa, è un roster molto completo, Battipaglia deve lavorare tantissimo in difesa e cercare di disiamare un poco gli spazi. E ancora una volta, questa ricerca di lato debole e lato forte, stavolta è Ferrari a dare una palla troppo alta per Jurkevicius, Battipaglia perde palla, e Carangelo può portare avanti nuovamente la Dinamo Sassari. La palla ancora delle mani di Carangelo, che si allontana, attacca, arresto, tiro, e la mano di Carangelo è magnifica, però se Battipaglia non segue le proprie avversarie. 13-8, il parziale, la tripla di Carangelo, che porta Sassari al massimo vantaggio, più 5, ancora Johnson perde palla, nello scontro con la cacmarcica, ancora razza, attacca lì a di fondo, e qui c'è pallo in attacco, e qui è stata bravissima Domacel, che nell'azione precedente si era fatta scappare via Carangelo, che fa sparato la tripla, nel più 5, qui invece fa una gran cosa, stupendo sfondamento in difesa. Battipaglia deve fare attenzione su questi giochi a due, si deve passare molto stretti, dietro loro, lo sono pericolosi, anche con Carangelo, lo sono dopo dal perimetro, lo sono pericolosi. In difesa adesso Dovencer è andata a mettersi sulla linea di penetrazione, prendendo il giusto sfondamento. Attacca Battipaglia, la palla arriva nuovamente nelle mani di Sierra Johnson, attaccata, si gira, c'è il fallo della numero 14, cacmarcica, su Sierra Johnson. Saranno due liberi per la ventana di Battipaglia. Fa uno su due, Sierra Johnson segna il suo quinto punto, 9-13. Per la... Il coach Conte ha deciso di cambiare difesa, c'è uno schieramento a zona da parte Battipaglia. Cerchiamo di limitare un po' i danni sotto il canestro. Il tino sbagliato di Agnesca, la palla recuperata prima da Seca, poi come c'è, si trova ancora Johnson, che realizza un altro canestro. Coach, non vogliamo portare male a Sierra. Nelle ultime due partite in casa ha iniziato malissimo, facendo addirittura zero punti nel primo tempo. Adesso ne ha fatti già sette. e corre in balzo. Sierra è un atleta molto, molto forte nel pitturato, quindi si è sempre da aspettarsi tutto su di lei. Adesso è stata una palla persa da parte di Matilde Domencer, è uscita fuori dal campo in palliccio. Dobbiamo fare attenzione su queste situazioni. C'è il primo cambio per Battipaglia e il trasmorto ed esce Sara Seca. Andiamo a dare un po' di solidità ancora di più in difesa. Si riparte con Carangelo Battipaglia. Continua con la zona perché la prima volta gli è andata bene. Carangelo riceve la palla. La palla riva nelle mani di Agnesca. Poi la Kakbazica tira. Sbagliando ancora Tatiana Jurkevicius recupera il rimbalzo. Domencer poi Ferrari. Si muove Battipaglia. Servita Johnson. Arresta il tiro immediato. Sbagliato la palla toccata dalla numero 24. La palla è rimessa in attacco per Battipaglia. 2,54 da giocare. Il tentativo di Ferrari per Domencer. Carangelo capisce tutto. E tocca ancora la palla che va ancora fuori. Oltre la linea si rimette la palla a Johnson. Aspetta l'arrivo di Smorto. Esce Ferrari. Spara la tripla. Paola Ferrari è corta. Cercava fallo la Ferrari. Attacca. Joens c'è il fallo di Matilde Domencer. Vediamo se ci saranno tiri liberi. Sta per entrare Elisa Policari per Battipaglia. Probabilmente al posto di Paola Ferrari. Che sta nell'uscita fuori Ferrari. Chiede spiegazioni all'armino del perché. Non gli è stato avvischiato fallo. Non è soddisfatta della spiegazione del signor Caporio. Due liberi per Joenza. Che realizza entrambi portando nuovamente a più quattro la compagine sarda. 15-11 per le isolane. Ancora Policari si cerca Yurkevicius. Si trova Johnson. Yurkevicius servita adesso. Si gira gran mano di Yurkevicius. Per Battipaglia segnano in due. Yurkevicius e Johnson. Buon lavoro di alto passo. Tra i due boss di Battipaglia hanno lavorato bene. Adesso stanno lavorando bene anche in difesa. Recuperando rimbalzi. Bisogna correre in attacco. Cercare di lavorare meglio su queste situazioni. Morto. L'occupo del cambio Jessica Milani. Ancora Johnson colto. Stavolta il rimbalzo della 24 Joens si ferma. Ragiona Agnesca. Carangelo attacca Domencer. Arriva fino in fondo. Sbaglia. Johnson recupera il rimbalzo. Ha dovuto alzare la parabola. Numero 5 perché si è trovata. Si era Johnson davanti. Pulicari. Esce Smorto. Vediamo chi si muove. Gran palla per Domencer. Poi Domencer stava cercando di far passare la palla in uno spazio quasi impossibile. Battipaglia rimetterà la palla in attacco con 9 secondi. Esce Domencer. Entra la giovanissima Jessica Milani per Battipaglia. Quindi cerca nuove idee. Coccia. Conte. Attacca Jurkevicius per Smorto. La palla fuori per Policari che spara la tripla. Sbagliata. Si lotta al rimbalzo. La palla finisce nelle mani di Agnesca. Attacca. Si trova Johnson. Arriva fino in fondo. Sbaglia il rimbalzo di Jurkevicius. Servita Jessica Milani. Adesso per Milani è un bel confronto. Perché si trova una delle giocatrici. La tripla corta di Johnson. Carangelo stavo dicendo. È una bella sfida adesso tra Milani e Carangelo. Carangelo spara. La tripla ha sbagliato. Adesso c'è un po' di frenesia in campo. La giovane Milani contro l'esperta Carangelo. Il gioventù contro l'esperienza. Sicuramente. Battipaglia ha trovato due tiri molto aperti. La palla non è entrata. Dobbiamo lavorare bene. Ma Sassari è una squadra ben attrezzata. Anche in difesa stanno lavorando bene. Chiudendo tutti gli spazi. Si deve continuare a giocare. È una bella partita. Affrontata. È giocata tutte e due le squadre in modo ottimo. La tripla realizzata dalla numero 21 Agnesca. Quinto punto per lei. Nuovamente più 5 Sassari. Ultimazione di Battipaglia. Policani si muove per Johnson. La trova. Johnson arriva a canestro. Finisce il primo quarto. O comunque un buon primo quarto. Battipaglia sotto di tre. Sassari avanti. 18 a 15. Giovanna Elena Smorto davanti a noi. Policari, Seca, Milani e Jurkevicius per Battipaglia. Per Sassari vediamo il numero 24 Joens. La numero 8 Toffolo. La numero 5 Calangelo. La numero 21 Agnesca. E la numero 1 Zaka. Milani sfrutta il blocco di Policari. La palla è per Smorto che attacca il canestro. Arriva fino in fondo. Subisce il pallo. Nella Joens. Primi due punti per Sala. Poi per Giovanna Elena Smorto. Subisce il pallo. Ci sarà il tiro libero. Aggiuntivo il pallo della 24 Joens. Primo pallo per lei. Smorto lo realizza. Tre punti per lei. Parità allo Zalve. 18 pari. Attacca adesso Sassari. Con Zaka. Il tiro è sbagliato. Il rimbalza di Jurkevicius. Milani. 9 e 15 da giocare in questo istante. Milani. Palleggia troppo. Palleggia troppo. Caraglio. La sporca da dietro. Quello che ne deve fare è battipaglia. Ma questo l'abbiamo visto fare anche alla Domegere. Intanto esce la numero 24 Joens. Entra in campo l'ex. Sarà crudo. L'abbiamo visto fare anche a Domecerra quando ha giocato lei. Il play troppo tempo con la palla in mano. Sarà a secca. Rischia di perderla. Jurkevicius. E' smorto. Palla persa da battipaglia. Scato nei 24 secondi. Non ce ne eravamo accorti nemmeno noi. Anzi 14 secondi. Non ce ne eravamo accorti nemmeno noi veramente. perché c'è stata una deviazione quindi non ci sono restati i 24 secondi. Però si deve fare attenzione anche dalla panchina che amavano i secondi che stavano passando. Si deve lavorare. C'è stato un bel gioco al suo prima fra Policari e Smorto. E' fatti battipaglia ha segnato i primi punti con gli esterni. Dobbiamo continuare a lavorare ma ti ripeto Sassari è una bella squadra messa bene in campo. Giocano bene. E qui Smorto si stava inventando un canestro meraviglioso in reverse. C'è il fallo subito dalla numero uno. Saka ha probabilmente il fallo di Sara Seca. Primo fallo per Sara Seca. Due liberi per Saka. C'è tanta di quella confusione. La parte del tipo di battipaglia che non riusciamo a sentire i fischi. esce e Smorto entra in campo il capitano di battipaglia. Con Saka che ha i due liberi. Realizza il primo riportando avanti Sassari di uno. Realizza il secondo. Più due Sassari. 20 a 18. Milani. Attaccata sempre da Calangelo. Strutta al blocco di Policari. Poi la serve. Potoricchio. Attacca. Si ferma. La serve. Milani. La palla di Milani indirizzata a Policari. Intercettata. Dalla numero uno. Raza. Rimessa in attacco per battipaglia. Con sette secondi da giocare. Ancora Policari. La palla per gli Urchemicius. Ottavo per gli Urchemicius. Gran palla di Elisa Policari. È stata una bella rettura da parte di Elisa Policari. Per gli Urchemicius. Messa in condizione di andare a tirare da sotto conestro. Si deve dare la palla in aria. Lavorare forte su queste situazioni. Pocolizio. Attaccia Toppolo. Realizza. Il più due a battipaglia. Che per la seconda volta si trova avanti. Dopo il 2 a 0 iniziale. 22 a 20. Ancora Raza. Lo scarico per Toppolo. Attaccata con la sola intera. Toppolo arriva adesso la tripla di Toppolo. Era Carangelo prima. La tripla di Toppolo. Che riporta avanti i sassari di uno. Di crudo. Chiedo scusa. Mi correggono. Dal tavolo. Ancora secca lo scarico per Policari. La tripla. Di Policari. Nuovamente più due a battipaglia. Sette minuti da giocare. 25 a battipaglia. 23 sassari. Attacca Raza. Lo scarico fuori. Ancora per Crudo. Si gira Raza. Il tiro realizza. Parità. Nuovamente. 6 e 40 da giocare. Jessica Milani. Attacca Carangelo. Aspetta l'arrivo di Policari. Sfrutta il blocco. Si chiudono. La palla è nelle mani di Jurkevicius. Il capitano spara la tripla. Sbagliata. C'è il pallo. Di Sara Seca. È il secondo. Qui Sara Seca è stata forse ingenua. Con la palla nelle mani già di Toppolo. A provare a prendere la palla. Però questo fa parte anche del gioco. Quindi si cerca di andare a ribalzo sempre. Se il pallo c'era. Anche stavolta è stato un tiro abbastanza aperto da parte di Battipaglia. Sono due squadre che si stanno affrontando a vista aperto. Lavorando bene. Tutte e due. Sia in attacco che difesa. È una bellissima partita. Sia dal punto di vista tecnico che agonistico. Stiamo vedendo una bella partita. Per il pubblico e per tutti. Va bene vedere il bel basket. C'è il time out in casa Battipaglia. La compagine di coach Conte. Per Restivo invece è lo stesso quintetto che ha iniziato poi il secondo quarto. Solo sarà crudo in più. Domecerra. Esce Poligari. Riceve. Si cerca Ferrari. Si trova Johnson. Attaccata da Agnesca. La palla è per Ferrari. E qui forse c'è il fallo su Ferrari. Da fuori non è lo stesso avviso. Battipaglia di Vane per il momento con uno in meno. Sara Crudo sbaglia. Però recupera lei. Il rimbalzo sbaglia ancora. Lotta con Johnson. C'è il fallo di Sara Crudo su Sierra Johnson. E qui Sierra Johnson ha fatto capire. Comandavi tu l'anno scorso qui. Oggi comando io. Sì era in aria si fa valere. Sì è in attacco che difesa. Leggendo le statistiche prima ha preso il primo quarto. Ha preso sette ribalti difensivi. Quindi è la padrona del pitturato da parte di Battipaglia. La palla è per Policari. Nuovamente Domeger. Non vedono Potolicchio. La tripla di Policari. Più non battipaglia. 28-27. Agnesca serve la razza. Ancora fuori per Toffolo. La palla arriva a Crudo. La tripla sbagliata di Garangelo che si arrabbia con Toffolo. Voleva lei la palla. Ferrari serve Potolicchio. Che attacca. Si ferma. Torra indietro. Serve Johnson. Contro Agnesca. Si gira. Il tiro è ancora. Johnson. Più tre. Battipaglia. Massimo vantaggio. Per la compagine di Coccia. Mario Conte. Garangelo. Serve la razza. Che attacca. Il tiro sbagliato. Johnson recupera il rimbalzo. Policari si ferma. Per Potolicchio. Ancora Policari capisce tutto. Agnesca. La recupera. Attacca. Il pitturato di Battipaglia. Qui è sfortunata. Ha il rimbalzo Johnson. Un primo tempo di Johnson. Dove gli dovranno fare la statua. A fine primo tempo. Cocci. Sicuramente. Si era. Sta facendo valere tutta la sua forza fisica. Sia in attacco che in divisa. Anche se adesso sbagliato un canestro. Fatto. C'è rimbalzo in attacco da parte di Paola Ferrari. E. Un fallo subito da parte di Johnson. Sicuramente. Eh. Sotto canestro. Sotto tutti e due canesti. Johnson si fa valere. Adesso rimette Durkheimicius in campo. Mario Conte. C'è un minuto di sospensione da parte di Cocci. Recupido. E allora. R. Estivo stavolta a chiamare time out. Sotto. Fino a fine partita. Eh. Giusto non metterla fuori in questo momento. Perché è veramente. On fire. La numero 40 di Battipaglia. Però avrà sicuramente bisogno. Di minutaggio e riposo. Stavolta. Ormai sono da quattro partite che lo diciamo. Il padron Giancarlo Rossini ha messo a disposizione di Cocci. Mario Conte. Un roster un po' più. Lungo. Quindi Battipaglia sta giocando. Prima giocava in 5 e 6. Adesso gioca in 8 e 9. Quindi. È importante anche questo. Dare riposo. Prima non si dava riposo a Johnson. Giocava quasi 40 minuti. Adesso. Conte può. Giostrare Johnson. Commettere Durkheimicius 5. Fa riposare Johnson. Può trovare tante soluzioni per dare riposo a Johnson. Sì. Padrono Rossini ha messo a disposizione. Vi conto è un roster molto equilibrato. Abbiamo. Siamo coperti in tutti i ruoli. C'è Policari che può giocare anche da quattro. Quindi. La rotazione dei lunghi. La rotazione degli esterni è aumentata su tutto. E si vede. Le letture in campo. Si vedono di più. Diciamo. Abbiamo più possibilità di ruotare. Le giocatrici anche dal punto di vista fisico. Reggono di più in campo. Non stando solo 40 minuti continuamente a giocare. E' ancora un 1 su 2 di Johnson. Che dai liberi ha un 2 su 4. Quindi. Comunque tira con la 50%. La coccia d'estivo ha dato la tripla di Toffolo. Sbagliata. Coccia d'estivo si è messo subito ai ripari. Riportando in campo la Cacmarcis. Coccia attacca la razza contro Jurkevicius. Qui fa un bel passo ad incrocio. Ottavo punto per la razza. 31-29 battipaglia. 3 e 15 da giocare. Battipaglia che ha raggiunto il massimo vantaggio. Più 4. Cercata ancora. Johnson. Qui c'era ancora. Coccia la panchina chiede fallo. Su. Johnson. Dall'altro lato la razza. La palla fuori riceve. Adesso la razza per la tripla. Sbagliata. C'è fallo. Vediamo di che. Nella 14. In maglia nera che spinge. È il secondo fallo. Nella Cacmarcis. Ridorme in campo la numero. Escono. Razza e Toffolo. Ritorna in campo. Ritorna in campo. La Joens con il numero 24 e con il numero 55. Togliani. Rimessa per battipaglia. Intanto Sassari è in bonus. 2.50 da giocare. E Domeger per Jurkevicius. Si abbassa per ricevere. Potolichio aspetta l'uscita di Domeger che non tira, non guarda nemmeno il canestro la 55 e poi decide di attaccare lo scarico ancora. Per la numero 40 Siera Johnson. Vediamo il fallo di chi è. Per il secondo fallo è della numero 9 Sara Crudo. Ci sono due tiri liberi. C'è una sorta di time out in campo tra la Ponte e Ferrari. Liberi per Sara Piedra Siera Johnson. Che realizza il primo. Realizza il secondo. Stavolta non trema la mano dell'americana che già è in doppia cifra. Battipaglia è... 2-3 zona. La palla per arrivato a Iane. C'è stata tanta disattenzione difensiva in questa zona. Il fine è sbagliato. Garangelo realizza un gran canestro. Diciamo che Battipaglia si è messa a zona ma si è trovata male nelle posizioni. Ha permesso la tripla sbagliata. Prima la Sera Crudo poi la palla è arrivata nelle mani di Garangelo che ha fatto un gran canestro. Domeger, Ferrari per Iurkevicius, Potolichio attacca il canestro. Il tentativo di servire Johnson con un no-look. Troppo forte il palleggio. Ancora il tiro sbagliato dall'altro lato. Si lotta al rimbalzo. Ferrari su... Su... La numero... 14 Katmacic, Domeger, attacca il canestro. Alza la parabola, sbagliato. Cercava ancora il pallo. Battipaglia. Garangelo, 33-31 il parziale. Ancora Garangelo si allontana. Attacca Domeger. Manda via le compagnie di squadra. Garangelo la parla poi per Togliani. Che spara la tripla sbagliata. Diorkevicius la prende e serve Domeger. Si cerca Johnson, si trova, si chiudono le maglie a blu. Johnson si gira. Stavolta il tiro è corto sul primo ferro. Garangelo la recupera. 45 secondi da giocare in questo primo tempo. Togliani. Ancora Garangelo. Battipaglia che sta avendo difficoltà nel capire la zona. Il tiro sbagliato di Garangelo. Però la palla finisce nelle mani della 24. Joens che segna il 33 fare. L'ultima azione è per Battipaglia in questo finale di tempo. Bisogna superare immediatamente la metà campo. Domeger si stava un attimino addormentando. Ancora una volta Domeger frattiene molto il pallone. Di cerca nuovamente Johnson. La palla è rubata da Togliani. 5 secondi, 5 decimi. Finisce il primo tempo. 33 pari. E noi ci risentiamo. Una bella partita a Battipaglia. Si deve lavorare tutti quanti. Battipaglia deve puntare a vincere questa partita per avere una buona posizione per i play-out. E Sasseri per mantenere la sua posizione per i play-off. Quindi hanno tutte e due le squadre a giocarsi qualcosa. Razza attacca la palla fuori per la numero 24. Joens che sbaglia il tiro. Il rimbalzo di Domeger per Domeger che attacca nella di fondo. Lo scarico per secca. Ancora Ferrari. Battipaglia anche fa girare palla. Poi Yurkevicius serve Johnson. Si cerca Domeger. C'è il fallo, anzi frazione di passi. Qui ingenuità di Battipaglia. Coach, a differenza della partita scorsa, che a fine primo tempo le squadre avevano già commesso più di oltre 20 falli. Qui abbiamo Sassari con sette falli. Battipaglia solo tre. Perché difendendo a zona si cerca di proteggere più l'area. Ci sono meno contatti. Quindi ci sono spaziature molto più larghe. Quindi alla fine meno contatti con le difese a zona. Però è una partita molto bella da vedere sotto tutti i punti di vista. E dopo un minuto è Johnson a sbloccare il punteggio più due battipaglia. Come nel primo quarto all'inizio la tripla sbagliata di Agnes Kailer in base di Johnson che palleggia sulla linea bianca. Palla persa da Battipaglia. Carangelo rimetterà la palla in gioco. Si cerca Agneska. La si trova. Attacca a Domegger la 21. La palla fuori. Per la tripla ancora sbagliata da Joens. Ferrari recupera il rimbalzo. Poi è lei a portare avanti la palla. Si muove Jurkevicius. Lo scambio tra le due. Si cerca ancora il blocco. Però Johnson capisce tutto Carangelo. Vediamo di chi è il fallo. Se ne accusa la 77 Ferrari. Secondo fallo per Paola Ferrari. C'è il signor Cafario che parla con Coach Restivo. si deve asciugare il parquet. Si riparte con Joens. Che serve Carangelo. Si abbassa per ricevere la Katzmarczyk. La palla fuori ancora per la razza. Si gira forse. E qui c'è la fallo. Ed è giusto. Il fallo è di Jurkevicius. Il fallo è stato fischiato dalla signora Castellaneta. Con giusto quei due o tre secondi di ritardo. Poi non ho capito se erano riunite tutte al centro. Dove c'era la signora Tommasi. Due liberi. Raza realizza il primo. Eccoci il fatto curioso. Dopo un minuto Battipaia segna i primi due punti. E dopo circa un minuto. Sassa ripareggia. Decimo punto per la razza. Quindi si segna un canestro ogni due minuti. Anzi ogni minuto. Ferrari qui. Forse c'era fallo su Ferrari. Servite ancora a Jones. Il tiro di Johnson sbagliato. Jurkevicius recupera il rimbalzo. Arriva a dieci. Nuovamente più due Battipaia. Carangelo. Agnesca aspetta l'uscita della Jones. Che spara la tripla. E qui realizza la Jones giustamente la tripla sparata in faccia a Johnson. Poi ancora Carangelo ruba la palla a Domengere. Una Matilde Domengere non in giornata oggi. Nuovamente più tre. Devono essere segnati i due punti. Eccoli là. 40-37 per Sassari. Domengere per Jurkevicius. Cercata Ferrari che attacca lo scarico fuori per Seca. Che spara la tripla sbagliata. Rimbalzo di Carangelo. E c'è il fallo di Sara Seca. Terzo fallo di Seca. Coach, come spesso mi piace dire, assenti ingiustificate oggi Domengere e Seca. Domengere e Seca, assenti ingiustificate. Il problema è che stanno lavorando fortissimo. Sassari sta lavorando fortissimo in difesa. E paghiamo anche dal punto di vista fisico il quintetto di Sassari che è un quintetto molto alto. Quindi anche in difesa bisogna lavorare tantissimo. Fallo della Jurkevicius sulla penetrazione. Battipaglia dopo tre minuti è già in bonus. Questo non è una buona cosa per Battipaglia. Gonza attacca lo scarico. Ancora l'extrapest per Carangelo. Il tiro è corto. Smorto recupera il rimbalzo. Smorto è entrato al posto di Seca. Domengere ancora per Smorto. Ferma il palleggio. Ecco, Smorto fa una cosa bruttissima. Però riesce a recuperare palla. Doppio campo. Battipaglia dopo un buon inizio. Time out. Conte e Battipaglia dopo un buon inizio di quarto. Sì, stavi facendo notare stranamente com'è. Ormai quasi 24 minuti di gioco. Ferrari ancora a zero punti. Carangelo. Carangelo attacca a Domengere. Arriva fino in fondo. Domengere gli lascia spazio. Carangelo arriva a quota 11. Più 5. Sassari che prova a scappare. Ferrari attacca. Arriva fino in fondo. Si ferma. Lo scarico per Smorto. Attacca. Lina di fondo. Il tiro è corto. Il rimbalzo della numero 14. Camarzeca stoppata fallosamente. Domengere. Anzi, Domengere stoppa fallosamente Carangelo. Saranno due liberi per la numero 5. E' il secondo fallo per Matilde Domengere. Che si è messa le mani in testa. Sbaglia. Incredibilmente Carangelo. Uno su due per lei. Più 6. Per le sarde. Jurkevicius. La tripla di Ferrari. Coach l'hai chiamata. L'hai chiamata. Eccola qua. Primi tre punti di Paola Ferrari. 43. 40. Ferrari sarà per portare via la palla. Razza che attacca Jurkevicius. Deve tornare indietro. Lo scarico. E qui c'è un'incredibile svista arbitrale. L'inflazione di passi della Cacmarcic. Non viene vista da Cafforio. La palla però viene recuperata da Battipaia. Ancora per Ferrari. Palla finta. La palla arriva a Domengere. Che tira. Sbagliando. c'è il fallo di smorto. Saranno due liberi. Primo fallo di smorto. Due liberi per Sassari. Il signor Cafforio sta parlando con Coach Conte. Che viene richiamato da Coach Cafforio. Per una protesta. Da Coach Cafforio. Scusa. Da signor Cafforio. Per una protesta che secondo me sembrava lecita. chiedere inflazione di passi. Sicuramente l'inflazione di passi c'era. Però come dico sempre. Quando l'albitro ha fischiato. Difficilmente può cambiare la sua. La sua opinione. La può cambiare in peggio. Potremmo pigliare un tecnico. E potrebbe succedere qualcosa ancora di peggio. Comunque andiamo avanti. Cerchiamo di girare bene la palla. Sassari ha trovato le misure sulla difesa zona di Coach Conte. Quindi sta cercando di essere molto più pericoloso. Battipaglia deve girare bene la palla. Speriamo bene. Ancora tiro sbagliato di Domengere. Che proprio non riesce a realizzare i primi due punti. La palla rimane in attacco per Battipaglia. Il cronometro del 24 ritorna a 14. Ferrari rimette la palla in campo. Trova la Johnson. La apre per Smorto. Si cerca ancora Ferrari. Che penetra. Fa la finta. Lo scarico. Extra pass per la tripla di Domengere. Sbagliata il rimbalzo è di Kakmarsic. Sta per tornare in campo. Elisa Poricari insieme a Jessica Milani. Quattro minuti. Qui Domengere. Fa una buona cosa. Intercetta la palla. Vede bene il signor Cafforio. La palla è stata toccata da Matilde Domengere. Non è mai facile arbitrare in queste situazioni. Escono Domengere e Jurkevicius. Tornano in campo Milani e Policari. Smorto recupera questa palla. Attacca Battipaglia. Ferrari si deve fermare. Ancora Smorto. La palla per Johnson. C'è il fallo. La stoppata fallosa. Saranno due liberi per Sierra Johnson. a due su due ancora. Sierra Johnson. Battipaglia ritorna a meno tre. 45-42. Per Sassari. Riceve Agnesca. Esce Carangelo. Attaccata da Jessica Milani. Si chiama il blocco Carangelo. Poi attacca, penetra. E qui fa una gran cosa. Sbaglia il tiro. La palla è recuperata da Joenza. Altra occasione offensiva per Sassari. La razza tira. Sbaglia. Ancora. Rimbalzo in maglia nera. C'è il fallo di Policari. Due liberi. E qui Battipaglia si è distratta continuamente. Si è lavorato meno sul taglio fuori in difesa. e quindi abbiamo concesso ad una squadra, come ripeto, molto, molto fisicamente alta a prendere due rimbalzi consecutivi in attacco. Si ha Battipaglia in bonus, quindi alla fine ogni fallo viene punito con i tiri liberi. Dobbiamo continuare a lavorare in difesa, facendo buone scelte per anticipare tutti i tagli. La tripla di Paola Ferrari. Meno due Battipaglia. 47 Sassari. 45 Battipaglia. Ancora Carangelo. Per Agnesca. Si apre, ma mette la vena numero 5. Attaccata da Smorto. C'è il fallo. E il secondo fallo anche di Giovanna Elena Smorto. Su Carangelo. Zero su due. Però ancora sbaglia il taglia fuori Battipaglia. La Takmarsic prova a recuperare il pallone. Palla persa. Esce Johnson. Ritorna in campo Jurkevicius. Smorto serve Jessica Milani. Policari. Si apre nuovamente Smorto. Esce Ferrari. Arriccio. Parafinta. Penetra. Ancora per Smorto. Si cerca nuovamente Ferrari. Si trova Jurkevicius che sbaglia da sotto. Primo errore di Jurkevicius al tiro. Da quello che posso ricordare. Visto che annuisce. Lasciata ancora libera Agnesca. Arriva il 10 da numero 21. Nuovamente più 5. E ancora una volta. Come si suol dire sempre. La coperta è corta da un lato. Visto che è stata lasciata libera di tirare Agnesca da 3. I primi due quarti abbiamo visto che Sassari ha tirato con il 25% da 3 punti. Ha pagato un attimo la difesa zona da parte di Mario Conte. Adesso entrando qualche tiro di più dal perimetro bisogna stringere un poco in difesa. Cercare di lavorare di più su queste situazioni di gioco in attacco. Dobbiamo essere molto più pronti sulle linee di passaggio e cercare di anticipare le linee di passaggio e dare tiri molto aperti. Realizza Policari anche il tiro libero aggiuntivo. Arriva a 9 punti. Qui il signor Cafforio ha visto una chiamata pazzesca. Ha visto spingere con le gambe la numero 14. Cacmarzic qui è vero che ogni tanto diciamo degli arbitri. Qui intanto Policari sbaglia la tripla. Il rimbalzo è di Jurkevicius che sbaglia nuovamente e smorto per Ferrari che realizza ottavo punto per Ferrari. nuovamente parità ad un minuto e cinque dal termine. Bisogna fare i complimenti a Cafforio per quella chiamata. attacca Nazza. Il tiro è sbagliato. Jurkevicius la recupera. Serve smorto che riesce a superare a metà campo. Policari per Ferrari. Ancora Ferrari. Serve Jurkevicius. Lo scambio tra la 24, la 21, la 77. 24 adesso prende palla. arriva fino in fondo. Policari sbaglia. Jurkevicius. E qui dopo due errori realizza. Mi ripeto. Tatiana è una giocatrice che deve giocare in velocità. Deve ricevere palla in velocità per andare a Canesco. La sua presenza ha rimbalzo sia in attacco che in difesa si fa sentire. Dobbiamo continuare a lavorare forte in difesa. Anticipare tutte le linee di passaggio e tutti i tagli. Agnesca. 10 secondi per chiudere l'azione di Sassari. Il tiro è sbagliato. Policari la recupera. Si cerca. Milani. Un secondo. La tripla da casa sua di Milani. Sbagliata. Finisce. Il terzo quarto. Batti Paglia. Noi la chiameremo facilmente mia. Io chiedo scusa agli amici di Sassari. Ma avevo segnato male. Quindi la 21 non è Agnesca ma è mia. I quintetti in campo per gli ultimi dieci minuti. Smorto spara la tripla sbagliata. Jurkevicius recupera il rimbalzo. In reversa. Realizza il più quattro. Policari. Milani. Potolicchio. Jurkevicius è smorto. Per Battipaglia. Sassari la tripla della numero 24. Joens. Sono 18 per lei. Carangelo. Joens. Crudo. Attacca. Potolicchio. Perde palla il capitano di Battipaglia. Attacca adesso Razza. Palla persa dalla stessa numero uno. Si ferma la palla nelle mani di Milani. La tripla. Di Jessica Milani. Più quattro a Battipaglia. 57-53. Crudo. Serve Razza. Si abbassa Carangelo per ricevere. 8.30 da giocare. Carangelo attacca Milani. Arriva fino in fondo. C'è il fallo di Jurkevicius su Carangelo. Terzo fallo per Jurkevicius. Qui Milani lascia passare. Realizza Carangelo. Il suo quindicesimo punto. Sassari è nuovamente a meno uno. Policari. Smorto. Si muove Potolicchio. Smorto decide di attaccare la numero 24. Poi arriva fino in fondo. Lo palla fuori. Per la tripla di Policari. 60-56. 8 da giocare. Sta per tornare in campo Salaseca. Razza attacca Jurkevicius. Il tiro sbagliato. Il fallo. Vediamo di chi. Della 21. Jurkevicius. È il quarto fallo. Per Jurkevicius. Che deve lasciare il terreno di gioco. entrano Secca e Johnson. Escono Jurkevicius e Potolicchio. Due liberi per Razza. Che realizza il primo. Realizza il secondo. 12 per lei. Razza che ha i liberi. Se non sbaglio. Fino adesso Razza ha i liberi. Non ha sbagliato mai. Qui Milani si fa scippare la palla. Da Canangelo. Parità. Ancora Milani. Attacca Carangelo. Secca. Smorto riceve. Si allontana. Poi decide di attaccare con l'aiuto dei Policari. C'è una spinta di Crudo. Non viene vista palla. A Secca. Che pesta la linea bianca. Esce Milani. Ritorna in campo Domengere. Stasera l'appello a dei punti manca proprio Domengere. Si manca l'apporto ai punti di Domengere. Ma anche diciamo nel far giocare la squadra in un modo corretto. La difesa sta cercando di lavorare su tutto. Speriamo che si sblocchi per battipaglia. E la tripla di Toffolo. Riporta avanti. Sassari di tre. Domengere. Policari. Di Secca. Anche Secca. Ancora zero punti. Attacca. Non viene stoppata da Crudo. La palla nelle mani di Carangelo. Attacca. Che fallo in attacco. Di Carangelo. Ancora un'ottima fase difensiva. Di Domengere. Pallo di Carangelo su Domengere. Sfondamento. Secondo fallo. Di Carangelo. Domengere attacca. Serve smorto. Ancora per Secca. Cercata. Johnson. Si chiudono le maglie. C'è fallo. Su Sierra Johnson. Dovrebbe essere la numero 24 in maglia nera. Terzo fallo per Joens. Sbaglia. In un momento importante Sierra Johnson. Uno dei due tiri liberi. Realizza il secondo. 19 per lei. Meno due battipaglia. 63-61. Toffolo. La palla riesce ad arrivare a Carangelo. Ancora Razza attaccata da Secca. C'è il fallo di Sara Secca. Quarto anche per Sara Secca. Terzo fallo di squadra per Battipaglia. Toffolo rispara la tripla. Stavolta è corta. La palla viene recuperata da Joens. Nuovamente Sassari. Avanti di 4. 6-5. 6-1. Smorto. C'è il fallo di Toffolo. Su Johnson. Che si arrabbia con Sara Secca. Voleva la palla nel pitturato prima, coach. Sicuramente non stiamo più dando palla dentro. Loro si sono giuse molto bene sull'esterno. Quindi dobbiamo cercare di giocare dentro Furi per aprire questa scatola. E trovare qualche canesso anche in penetrazione da parte di Smorto e Sara Secca. Smorto. E trova Secca che tacca, penetra. Si gira il tiro. Primi due punti per Sara Secca. 63 Battipaglia. 65 Sassari. Razza serve fuori Toffolo. Ancora per Carangelo. Che si allontana. Il tiro è sbagliato ma è sempre Sassari. Sveglia a recuperare. Razza realizza. Dopo aver recuperato il rimbalzo. E adesso Battipaglia ha difficoltà proprio sui rimbalzi difensivi. Sta permettendo tanti rimbalzi offensivi. A Sassari. Johnson. Secca che attacca. Arriva. Si ferma. Sfrutta. Il corpo dell'avversaria realizza i due punti. Il coach Conte mette fuori Giovanna Elena Smorto. Rimette in campo Paola Ferrari. Seca che sbaglia. Il tiro libero. Ma se nessuno esce a marcare razza. Battipaglia ha smesso di difendere coach. Non è che Battipaglia ha smesso di difendere. È che Sassari ha trovato le misure per attaccare la zona messa dentro da parte di Mario Conte. Quindi ci stanno queste problematiche. Si sta andando poco al rimbalzo in difesa. Poco taglia fuori. Però sta venendo anche fuori il lavoro di Sassari. Che è una squadra molto molto lunga. E quindi paghiamo 6 scelte di rimbalzi in difesa. Poche. Molti rimbalzi in attacco da parte di Sassari. Però la partita è salata. Dobbiamo chiudere tutte le linee difensive. Qui Garangelo si inventa un gran canestro. In penetrazione. Passando tra le mani e le braccia di Seca e Johnson. Domecerra. Ferrari sbaglia la tripla. Il rimbalzo è di razza. Si stanno lentamente spegnendo le veletà di Battipaglia. Garangelo ormai è salita in cattedra la numero 5 di Sassari. Cercate trovata Toffolo. C'è canestro di razza. Con fallo di Johnson. E qui a turno adesso. Una volta razza. Una volta Garangelo. Plus 7. Massimo vantaggio. Per la razza avrà l'opportunità di utilizzare il libero aggiuntivo e di portare a più 8. Sassari. Ci riesce. 7-5 Sassari. 6-7 Battipaglia. E c'è il fallo di... Crudo. Su Policali andrà ai liberi. La numero 24 per Sara Crudo è il terzo fallo. Una Battipaglia che lo ha detto anche nella precedente intervista dopo Faenza che Battipaglia non può sempre realizzare 91 punti. Quindi se non difende la difficoltà è proprio questa. Sicuramente il credo di tutte le partite bisogna vincere le prima in difesa. Se si difende bene ci sono tante situazioni. Adesso c'è stato un bel gioco a due da parte di Sassari dove la difesa di Battipaglia non è stata attenta su questa situazione di gioco. Bisogna stare molto attenta su queste situazioni. E qui Seca viene stoppata la tripla di Domager. Sbagliata. Johnson la recupera. Attacca sul mismatch. Sbaglia. Chiedeva fallo. Johnson non è così per gli arbitri. Domager contro Carangelo. Si abbassa. Giants qui. Riuscita dalla telecamera. Carangelo decide di far tutto da sola. La palla fuori per Raza. Lo scarico per la tripla di Toffolo. Realizzata. E su questa tripla probabilmente più 11 a 1,50 dalla fine. Sassari vede il traguardo. Sicuramente è un bel vantaggio da parte di Sassari. Però il basket è bello. C'è un minuto e quaranta da giocare. Ci sono tanti minuti ancora. Bisogna far canestro. Bisogna far canestro per Battipaglia. E difendere tantissimo. Adesso si era sbagliato un canestro. Facile da sotto. Non dobbiamo demoralizzarci. Dobbiamo lavorare in difesa e cercare di recuperare. 1,20 da giocare. 6,9 Battipaglia. 8,0 Sassari. Una Sassari sorgniona che sta portando a casa via due punti importanti. Dal Palazzaoli di Battipaglia. Due punti che possono valere l'ottavo o il nono posto. Ferrari subisce il fallo di Carangelo. Terzo fallo di Carangelo. Entra Jurkevicius. Esce un'immensa. Oggi si è raggiunto. Sicuramente nei primi due quarti è stata dirompente sia in attacco che nei rimbalzi difensivi. Poi Sassari ha chiuso un poco in difesa raddoppiandola sistematicamente. La palla dentro ci è arrivata poco. Quindi non ha potuto continuare a dare il suo grande contributo in attacco. Uno su due di Ferrari porta Battipaglia a meno dieci. Una Battipaglia che vincendo questa gara forse scavalcava Sanga Milano. Anche se Milano oggi giocava contro Roma. Una diretta concorrente anche di Sassari. Policari attacca in penetrazione. Il tiro è realizzato da Elisa Policari. Meno otto. Ultimi venticinque secondi da giocare. Alla fuori per la tripla di Rata. Realizza. Sassari sbanca e vince qui al Palazzaule. Ferrari supera da capo. È più logico fermare la palla. Ferrari dice stop. Sassari batte l'ome. Possessi lo trailer sbattipaglia con il puntino 83-72. Coach, oggi è mancata la difesa di Battipaglia. La difesa di Battipaglia è mancata sicuramente. Sassari nei primi due quarti ha tirato malissimo da tre punti. Nel terzo e quarto quarto. Aspettiamo le statistiche ma sicuramente ha tirato con percentuali molto ma molto alte sicuramente. che alla fine del terzo e quarto Sassi ha tirato da tre punti con il 27%. Aspettiamo le statistiche e ci rendiamo conto un attimo. Sicuramente è stata una partita molto bella sotto tutti i punti di vista. Coach, sono arrivate le statistiche. Ti lascio con questa domanda. Durante la settimana santa l'isola si avvolge di mistero nella tradizione dei diritti tramandati. Di generazione in generazione. Scoprite la magia che precede la Pasqua. Conto Banco di Sardegna Online Approfitta della promo Apri subito il conto online Più facile, più veloce Da oggi puoi scegliere Inquadra e apri il conto Banco di Sardegna Grazie a tutti. Grazie a tutti.